Non bastasse il caldo persistente, l'AFA diventa ancora più insopportabile quando metti un piede fuori di casa e ti ritrovi immerso negli escrementi di piccione. E' questa una delle segnalazioni recapitate a Rossini TV da alcuni abitanti di Via Massimi, porzione residenziale del centro storico che affaccia sul giardino della biblioteca San Giovanni. Residenti che d'ormai tre anni raccontano come si trovino costantemente ad armarsi di secchio e straccio per ripulire i propri pavimenti dalle deiezioni di volatili senza che nessuno si adopere a trovare un deterrente per snidare l'addensamento dei piccioni fra tetti e cornicioni. Problemi di gestione spesso fra privati ancora più pesanti se nessuno si incarica della pulizia. E' il caso di un'altra segnalazione che riguarda il centro commerciale sulle due di Via Togliatti che spesso si presenta come un tappeto di escrementi inconciliabile con le tante attività commerciali e di uffici presenti. A poche decine di metri c'è poi un'altra situazione di abbandono denunciata più volte nel quartiere di Villa San Martino, quella del parco di Via Mercadante dove i giochi per bambini danneggiati rimangono inutilizzati da tempo. Segnalazioni anche dalla zona mare dove i residenti di Via Cavallotti enfatizzano come sia difficilmente utilizzabile il sottopassaggio pedonale con Via della Vittoria fra persistente odore di urina e abbandono di rifiuti. Zona mare in cui a Levante c'è chi segnala invece la totale assenza di illuminazione nel tratto di pista ciclabile retrostante alla scuola alberghiera. Ci sono invece ciclabili nuove come quella di Vismara affiancate da marciapiedi faticenti come ci segnalano i residenti di Via Basento. Vi ricordiamo il numero dedicato alle segnalazioni Rossini TV 370-366-7210.